Benvenuti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Telemuoviamoci. Come anticipato al termine della lezione precedente, oggi avremo bisogno della nostra solita palla e di una sedia. Vi diamo quindi il tempo di recuperarla, di posizionarla davanti al vostro teleschermo e nel frattempo ricordiamo quelle che sono le solite raccomandazioni. Abbastanza spazio per muoverci in libertà, un abbigliamento comodo che sia una tuta, un paio di calzoncini, una maglietta, un paio di scarpe da ginnastica comode o delle calze antiscivolo e il solito parere positivo dal parte del nostro medico curante per poter svolgere semplici esercizi di ginnastica dolce. Momentaneamente posizioniamo la palla a fianco, ci servirà nella seconda parte di questa lezione e andiamo comodamente a sederci sulla nostra sedia con la schiena ben appoggiata allo schienale. Il primo esercizio è finalizzato a mobilizzare i nostri arti superiori, quindi spalle e braccia. Andremo quindi a posizionare le mani sulle nostre spalle, partiremo col braccio destro, andremo a distendere il braccio verso l'alto, quindi riporteremo la mano verso la spalla. Ne faremo una decina per poi fare lo stesso movimento in apertura, quindi apriamo bene il braccio verso l'esterno, riportiamo la mano verso la spalla. Passeremo quindi al braccio sinistro dove andremo nuovamente a portare prima il braccio verso l'alto e quindi il braccio verso l'esterno. Partiamo quindi tutti assieme, mani sulle spalle, partiamo col braccio destro, andiamo a distenderlo verso l'alto inspirando e lo riportiamo alla spalla espirando. Distendo verso l'alto e scendo, cerchiamo di fare il movimento maggiore verso l'alto, senza però percepire dolori all'articolazione, alla spalla, altrimenti cerchiamo o di limitare il range di movimento o interrompiamo immediatamente l'esercizio qualora il dolore diventi eccessivo. Alziamo bene e riappoggiamo. Distendiamo bene il braccio verso l'alto e riportiamo la mano verso la spalla. Ancora qualche ripetizione, distendo bene e abbasso. Mi allungo verso il soffitto e ritorno alla spalla. Ancora tre, distendo e ritorno alla posizione di partenza. Ancora due, distendo bene il braccio e scendo. Alzo la mano verso l'alto e la riporto alla spalla. Proseguiamo col braccio destro, movimento in apertura. Apro e torno verso la spalla. Se riusciamo a tenere il braccio all'altezza della spalla, molto bene, altrimenti cerchiamo una posizione tale che non ci permetta di sentire dolore. Torniamo alla spalla, apriamo bene verso l'esterno, inspirando ed espirando torniamo alla spalla. Apro e chiudo. Apro bene il braccio e riporto la mano alla spalla. Ancora poche ripetizioni. Apro e ritorno. Ancora due. Apro bene e torno alla spalla. Apro e chiudo. Molto bene. Stessa identica cosa con il braccio sinistro. Quindi andremo ad alzare il braccio, partiamo tutti assieme, e riporto la mano alla spalla. Inspiro salendo verso l'alto ed espiro riportando la mano alla spalla. Salgo e scendo, come col braccio destro, cerchiamo di fare un movimento che non evochi qualche dolore. Quindi dovete essere bravi a capire se è un fastidio legato a qualche problema all'articolazione o semplicemente la fatica che stiamo accumulando durante il movimento e quella purtroppo dobbiamo tenercela perché stiamo allenando i nostri muscoli, quindi è giusto che sentiamo un po' di fatica muscolare, che però non deve essere assolutamente dolore. Ancora tre ripetizioni, distendo bene verso l'alto, inspirando, riporto la mano alla spalla. Gli ultimi due, distendo e ritorno, distendo verso l'alto e ritorno. Andiamo ora a lavorare in apertura verso l'esterno. E via, apro e torno alla spalla. Come con il braccio destro, cerchiamo un'altezza del braccio tale da non farci sentire dolore. Quindi se riusciamo a tenere il braccio all'altezza della spalla molto bene, altrimenti cerchiamo di ridurre l'altezza in modo da limitare eventuali fastidi. Torniamo bene alla spalla, inspirando apriamo completamente il braccio e ritorniamo. Apro e ritorno. Apriamo bene e chiudiamo il gomito. Distendiamo il braccio e riportiamo la mano verso la spalla. Ancora due, inspiro in apertura, espiro e ritorno. Apro completamente il braccio e lo riporto alla spalla. Molto bene! Passiamo ora al secondo esercizio, dove andremo sempre a mobilizzare i nostri arti superiori, ma contemporaneamente andremo a eseguire delle rotazioni del braccio. Quello che andremo a fare quindi è posizionare nuovamente le mani sulle spalle, eseguiremo una rotazione del busto verso destra, il braccio sinistro si distenderà verso il vostro televisore, il braccio destro in avanti nella direzione della rotazione del bacino. torneremo a riappoggiare le mani alle spalle e ruoteremo verso il centro e quindi verso sinistra. Questa volta sarà il braccio destro a distendersi verso il televisore e il braccio sinistro, sempre nella direzione della rotazione. Questo movimento non sarà scomposto, ma dovrà essere sincrono, quindi le due braccia si distenderanno completamente per tornare alle spalle. ruoteremo dalla parte opposta, distendendo tutte e due le braccia che rimangono parallele al pavimento e se riusciamo all'altezza delle spalle, e quindi torneranno insieme alle spalle con la rotazione che vi riporterà frontali al vostro teleschermo. Partiamo quindi tutti assieme. Mani posizionate alle spalle, ruotiamo verso destra, distendiamo tutte e due le braccia, al sinistro verso il teleschermo, al destro in avanti rispetto alla rotazione. Torniamo al centro, rotazione a sinistra, distendo e ritorno. Torniamo al centro, andiamo a destra, distendo e ritorno. Ruotiamo al centro, quindi a sinistra, distendo e ritorno. E proseguiamo in questo modo. Ruoto, distendo le braccia, tutte e due assieme, torno alle spalle, cambiamo il senso di rotazione, veniamo verso sinistra, distendo, chiudo, piano piano andiamo a ruotare verso destra, distendiamo tutte e due le braccia, torniamo al centro, andiamo a sinistra, distendo le braccia, riporto le mani alle spalle, e andiamo a destra, gli ultimi due, distendo tutte e due le braccia assieme, torno alle spalle, a ruoto, andiamo verso sinistra, distendo e chiudo, e torno al centro. Molto bene. Passiamo ora a mobilizzare gli arti inferiori. Andremo quindi ad alzarci, andremo ad appoggiarci allo schienale della nostra sedia, ci mettiamo laterali, in modo da far vedere bene rispetto al teleschermo il movimento, andiamo ad appoggiare tutte e due le mani sullo schienale, schiena e testa dritte, quindi sguardo in avanti, non guardiamo verso il basso, in modo che la testa rimanga in asse con la schiena. Quello che andremo a fare è alzare i talloni verso i glutei, ovviamente una gamba alla volta. Alzeremo il tallone del piede sinistro, lo riporteremo a terra, e andremo ad alzare il tallone del piede destro, sempre verso i glutei, cercando di non effettuare questa flessione in avanti del busto, per aiutare la gamba a salire, ma cerchiamo di stare belli dritti, sguardo fisso in avanti, magari prendiamo un punto di riferimento davanti a noi, in modo da avere lo sguardo fisso, e quindi andremo ad alzare prima un piede, e poi andremo ad alzare l'altro. Molto bene, partiamo tutti assieme, quindi ci mettiamo in piedi, mani appoggiate allo schienale della sedia, e possiamo partire. Alziamo un tallone sinistro, lo riportiamo a terra, alziamo il destro e torniamo, sinistro e giù, destro e giù, sinistro, destro. cerchiamo di ispirare mentre il tallone sale, di ispirare mentre il tallone scende, e continuiamo a alternare le gambe, ognuno alla propria velocità, se riusciamo a seguire la velocità dell'esecuzione del gesto di Cristina, molto bene, altrimenti ognuno vada alla sua velocità di esecuzione del gesto. Anche qui, siamo attenti ai eventuali fastidi, soprattutto a carico delle ginocchia, cerchiamo di tenere sempre la testa e lo sguardo dritti in avanti, se siamo frontali verso il nostro teleschermo, tanto meglio, teniamo gli occhi fissi al televisore. Ancora qualche ripetizione. andiamo su bene col tallone sinistro verso i glutei, poi il destro, sinistro, e destro. Ancora uno per gamba, su bene il tallone sinistro, su bene il tallone destro. Benissimo! Un attimo di pausa, poi cerchiamo un po' di complicare l'esercizio. andremo ad associare il movimento appena fatto all'alzata in punta di piedi. Quello che andremo a fare è salire in punta di piedi, quindi alzare un tallone verso i glutei, riportiamo giù il piede, riportiamo i talloni a terra. Una volta lo faremo con la gamba sinistra, e poi andremo a destra. Su in punta di piedi, alziamo il tallone destro, riportiamo giù il piede, e appoggiamo i talloni. Quindi è un movimento che si distribuisce su più fasi. La prima fase è quella di salire in punta di piedi, la seconda è di alzare il tallone, riportiamo quindi giù il piede, e riportiamo i talloni a terra. Partiamo tutti assieme, partiremo col piede a sinistro, siamo in appoggio alla nostra sedia, saliamo in punta di piedi, alziamo il tallone sinistro verso i glutei, riportiamo giù il piede, e appoggiamo i talloni a terra. Saliamo in punta di piedi, sul piede destro, riportiamo giù il piede destro, e riappoggiamo i talloni al pavimento. E via, sinistra, salgo, e scendo. Su in punta di piedi, sul piede destro, riporto il piede a terra, e scendiamo con i talloni. E via, di nuovo a sinistra. Qualora avessimo difficoltà a mantenere l'equilibrio, torniamo a svolgere l'esercizio precedente, dove ci limitavamo esclusivamente ad alzare il tallone verso i glutei. Per tutti gli altri, invece, associamo questa alzata in punta di piedi al tallone che va verso il gluteo. Tagliamo bene, gamba sinistra, riportiamo giù il piede, e giù i talloni. Tagliamo, piede destro, e scendiamo. Ancora uno per gamba, in punta di piedi, sale il tallone sinistro, e ritorniamo a terra. Punta di piedi, su la gamba destra, riappoggiamo il piede, e scendiamo con i talloni a terra. Molto bene! Andiamo avanti a rinforzare i nostri arti inferiori. Quello che andremo a eseguire adesso sono degli squat, ovvero dovremo sempre in appoggio alla nostra sedia, andare a flettere leggermente le ginocchia, come se volessimo sederci, e quindi risalire verso l'alto. Andremo quindi, facciamo vedere nuovamente il movimento, a scendere verso il basso coi glutei, piegando le ginocchia, e quindi torneremo su. È un mezzo squat, e non dobbiamo arrivare oltre i 90 gradi con la flessione del ginocchio, dobbiamo stare molto attenti a eventuali dolori a carico delle ginocchia, soprattutto. Mi raccomando, come già detto nelle lezioni precedenti, abbiamo bisogno di qualcuno che segua con noi gli esercizi in modo da intervenire qualora ci sia qualche problematica. Questo potrebbe essere un esercizio dove una mano potrebbe farci comodo. Partiamo quindi tutti assieme, mani appoggiate allo schienale, piedi alla larghezza delle ginocchia, quindi i piedi non sono uniti, ma divarichiamoli leggermente, in modo da essere ben in equilibrio e ben saldi attaccati alla sedia. Andiamo a scendere coi glutei, flettendo le ginocchia, e torniamo su. Cerchiamo di tenere la schiena perpendicolare al pavimento il più possibile, quindi cerchiamo di non andare a fletterci in avanti, ma stare belli dritti con la schiena, con le mani appoggiate al nostro schienale. E via, scendiamo, e risaliamo. Siamo a due, dobbiamo farne dieci. Via, scendo, e piano piano risalgo. Siamo a tre. Via, quattro, e via. Cinque. Piano piano, sei. Cerchiamo di tenere sempre la testa dritta. Sette. E mancano solo tre. Otto. Lentamente. Nove. E l'ultimo. E dieci. Molto bene. Un attimo di pausa, recuperiamo l'energia, e poi abbiamo ancora una serie da dieci ripetizioni. Se riusciamo, ovviamente, se siamo troppo stanchi, sentiamo qualche problema a carico delle nostre gambe, piuttosto ci fermiamo e riprendiamo col prossimo esercizio. Per chi è pronto e vuole fare questa seconda serie da dieci ripetizioni, ci rimettiamo in posizione, mani sempre appoggiate allo schienale, e partiamo. Via. Uno. E torniamo su. E due. E su. Tre. E quattro. Cinque. Siamo già a metà. e sei. Sette. Ne mancano solo tre. Otto. E nove. L'ultima. E dieci. Molto bene. Perfetto. Abbiamo ora tempo, durante la pubblicità, di recuperare un po' di energia, di riposarci un attimo, bere un bicchiere d'acqua, e ci vediamo tra pochissimo con la seconda parte di questa lezione. Bentornati a questa nuova lezione di Telemuuviamoci. Andiamo a sederci nuovamente sulla nostra sedia, questa volta avremo bisogno della nostra palla. Andiamo a prenderla con tutte e due le mani, la portiamo all'altezza del petto, e quello che dovremmo fare è, ispirare ed espirando andremo a schiacciarla forte e forte con tutte e due le mani, come se volessimo farla esplodere. Andremo a ispirare allontanando leggermente le mani, ed espirando andremo a schiacciarla il più forte possibile. Ci mettiamo quindi tutti in posizione, siamo seduti, schiena appoggiata allo schienale, in modo da non andare ad affaticarla. portiamo la palla all'altezza del petto, alziamo leggermente i gomiti, inspiriamo ed espirando schiacciamo forte, 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 fin quando non abbiamo espulso tutta l'aria nei nostri polmoni. Inspiriamo, e fuori l'aria schiacciamo forte, forte. Inspirando rilassiamo leggermente le braccia, fuori l'aria, andiamo a schiacciarla. Siamo a tre, dobbiamo farne dieci. Via, inspiro, ed espirando schiaccio. Siamo a quattro. Inspiro allontanando le mani, e cinque, fuori tutta l'aria, continuiamo a schiacciare fin quando non è uscita tutta l'aria. E via, inspiro, e schiaccio forte, forte. E via, inspiro, e fuori l'aria mentre la schiaccio. Ancora tre. Inspiro, ed espiro, gli ultimi due. Inspiro, rilassando le braccia, ed espirando schiaccio forte, forte. L'ultimo. Inspiro, ed espirando schiaccio il più forte possibile. Molto bene. Andremo a fare lo stesso identico esercizio, ma con le gambe. Quindi posizioniamo la palla tra le ginocchia, e il movimento è sempre lo stesso. Inspiriamo, ed espirando andremo a schiacciare la palla con le gambe, come se volessimo farla esplodere. Inspireremo allontanando le gambe leggermente, senza far cadere la palla, ed espirando andremo a schiacciarla nuovamente, sempre per dieci volte. Ci mettiamo quindi in posizione, la palla la mettiamo quindi tra le ginocchia, e partiamo tutti assieme. Inspiro, ed espirando schiacciamo forte forte la palla. Inspiro rilassando le gambe, ed espiro schiacciando fin quando non ho espulso tutta l'aria in corpo. e via, inspiro, ed espiro. Inspiro allontanando le gambe, espiro schiacciando forte la palla. E via, inspiro rilassando, e schiaccio espirando. Siamo a cinque, siamo a metà. Inspiro, ed espiro, schiaccio forte forte la palla, al più forte possibile. Via, inspiro, ed espirando schiaccio. E via di nuovo, inspiro, ed espiro, schiacciamo forte forte. Inspiriamo, ed espiriamo. Ancora due volte, forza, inspiro, ed espirando schiaccio la palla. L'ultima, inspiro, ed espirando schiaccio forte forte. Molto bene. Stesso esercizio, ovvero esercizio simile, andando a schiacciare la palla verso il pavimento. Andremo quindi a posizionare la palla sotto il piede destro, appoggeremo il piede sulla palla, schiena, mi raccomando, sempre appoggiata allo schienale della sedia, testa dritta, la palla riusciamo a schiacciarla lo stesso anche se non la guardiamo. Quindi andremo a inspirare, ed espirando schiacceremo col piede la palla al pavimento. Inspiro, rilassando la gamba, e fuori, schiaccio forte forte. Siamo a due. Inspiro, ed espirando schiaccio. Tre. Inspiro, ed espiro quattro. Inspiro, ed espiro cinque. Inspiro, ed espiro sei. e mancano solo tre. Via. Fuori l'aria, schiaccio forte forte la palla. Otto. Alzo leggermente il ginocchio, mentre inspiro, fuori l'aria, schiaccio nove. L'ultimo. Inspiro, ed espirando, schiaccio forte forte la palla al pavimento. Benissimo. ci manca la gamba sinistra. Stesso identico movimento. Inspiriamo, ed espirando, andremo a schiacciare la palla col piede sinistro. Partiamo tutti assieme. Piede sinistro è già posizionato sulla palla. E via. Inspiro, buttando fuori, schiaccio forte forte. E uno. E via. Inspiro, ed espiro. Due. Inspiro, salendo col ginocchio. Espiro, schiacciando. Tre. Salgo leggermente con la gamba. E fuori. Quattro. Su. Il ginocchio. E giù. Schiacciamo forte col piede. Siamo a cinque. Siamo a metà. Inspiro, ed espiro. Sei. Inspiro, ed espiro. Sette. Mancano solo tre. Dentro bene l'aria, e fuori. Svuotiamo bene i polmoni. Gli ultimi due. Inspiro, e buttando fuori, schiaccio forte la palla. L'ultimo. Inspiro, ed espirando, vado a schiacciare forte forte il pallone al pavimento. Benissimo. Riprendiamo in mano la palla. Andremo ora a svolgere un esercizio che coinvolge le nostre braccia, i nostri arti superiori. Inizieremo con delle semplici rotazioni verso l'alto. Nello specifico andremo a ruotare in senso orario verso l'alto, sopra la testa, distendendo bene le braccia, e riporteremo quindi la palla al petto. Ne faremo cinque. Finite le cinque ripetizioni in senso orario, andremo a eseguirne cinque in senso anti-orario, sempre distendendo il più possibile le braccia verso il soffitto. Partiamo tutti assieme. Palla al petto, e via! E uno, e riporto la palla al petto, e due, e tre, quattro, ancora una, e cinque. Torniamo al petto, cambiamo il senso di rotazione, via! Uno, e due, e tre, e tre, le ultime due, quattro, e cinque. Molto bene! Stesso esercizio, ma questa volta le rotazioni saranno verso il basso, ovvero sotto le nostre gambe. tenendo la schiena dritta, quindi andremo a flettere leggermente il busto in avanti, faremo passare la palla sotto alle gambe, e la riporteremo al petto. Sempre cinque rotazioni in senso orario, e cinque rotazioni in senso anti-orario, consecutive, senza pause. E partiamo in senso orario tutti assieme, via! Uno, e due, e tre, e quattro, cinque, cambio senso di rotazione, via! Uno, due, tre, quattro, e cinque. Molto bene! Proseguiamo ora con queste rotazioni, o verso l'alto, o verso il basso. Nel prossimo esercizio sono previsti semplici calcoli matematici, che siano addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, o divisioni. Quello che dovremo fare è risolvere, l'operazione matematica. Se il risultato sarà pari, andremo a ruotare la palla verso l'alto. Se il risultato dell'operazione sarà dispari, andremo a ruotare la palla verso il basso, sotto le gambe. Quindi per fare un esempio, se il risultato dell'operazione sarà tre, il risultato è dispari, e quindi andremo a ruotare verso il basso. Se il risultato dell'operazione sarà sei, quindi un numero pari, andremo a ruotare la palla sopra la testa, sempre cercando di distendere le braccia il più in alto possibile, previo dolore alle braccia, o alle nostre spalle. Partiamo quindi tutti assieme. Ricordo, se il risultato è pari, movimento verso l'alto, se il risultato è dispari, movimento verso il basso. Tutti pronti? 4 diviso 2, il risultato è 2, quindi movimento verso l'alto. 8 meno 5, il risultato è 3, quindi andremo verso il basso. 8 più 1, il risultato è 9, quindi sempre dispari. 2 per 2, il risultato è 4, quindi movimento verso l'alto. Attenzione! 9 meno 2, il risultato è 7, quindi movimento sotto alle gambe. 4 per 2, il risultato è 8, quindi andremo verso l'alto. 5 più 5, il risultato è 10, movimento verso l'alto. 10 meno 5, il risultato questa volta è dispari, è 5, quindi movimento verso il basso. 9 meno 8, il risultato è 1, perfetto, verso il basso. 3 per 2, il risultato è 6, quindi movimento verso l'alto. Molto bene! Recuperiamo un attimo l'energia, e lasciamo riposare anche la nostra testa, impegnata nei calcoli matematici, questo rientra nei famosi esercizi dual task che abbiamo già imparato a conoscere nelle lezioni precedenti, e nel frattempo vi spieghiamo il prossimo esercizio, che rimane identico nelle modalità, ma lo rendiamo un pochettino più difficile. Io dirò l'operazione, lanceremo la palla leggermente verso l'alto, cerchiamo di non lanciarla oltre l'altezza della testa, nel frattempo del volo della palla andremo a risolvere il calcolo matematico e nuovamente se sarà pari ruoteremo con la palla sopra la testa, se il risultato sarà dispari andremo sotto le gambe. Quindi, per fare un esempio molto semplice, se dirò 3 più 3, lanciamo subito la palla, nel frattempo pensiamo che il risultato è 6, che è un numero pari, e quindi ruotiamo verso l'alto. Se invece andrò a dire 8 meno 5, lanciamo subito la palla, pensiamo nel frattempo al risultato, che è 3, quindi è dispari, andremo a ruotare sotto le nostre gambe. Senza paura, ci mettiamo in posizione e partiamo tutti assieme. Palla all'altezza del petto, 5 più 5, lanciamo subito la palla, il risultato è 10, pari rotazione verso l'alto. Pronti? 4 meno 2, lanciamo subito, nel frattempo pensiamo che il risultato è 2, quindi il movimento è verso l'alto. Pronti nuovamente? 3 più 3, 6, quindi ruotiamo bene verso l'alto. Pronti? 10 meno 1, il risultato è 9, quindi in movimento sotto le gambe. 3 meno 2, il risultato è 1, quindi ruotiamo bene. Pronti? 8 diviso 2, il risultato è 4, quindi in movimento verso l'alto. 10 meno 3, il risultato è 7, ruotiamo sotto le gambe, benissimo, 6 diviso 2, il risultato è 3, quindi rotazione sotto le gambe, perché è un numero dispari. 10 meno 5, il risultato è 5, quindi movimento sotto. 10 meno 2, il risultato è 8, e quindi andremo a ruotare la palla sopra la testa. molto bene, non vi impegniamo in altri calcoli matematici per oggi, lasciamo da parte la palla, e adesso andiamo a fare esercizi di allungamento. andremo a distendere tutte e due le braccia sopra la testa, e andremo a effettuare delle inclinazioni del busto in espirazione, quindi inspireremo con le braccia dritte, buttando fuori andiamo a inclinarci verso destra. Torneremo al centro inspirando, ed espirando andremo a inclinare il busto verso sinistra. Ci mettiamo quindi tutti in posizione, la palla l'abbiamo messa da parte, dita delle mani incrociate, e col palmo ruotato verso l'alto, e braccia distese sopra la testa. Inspiriamo, e fuori l'aria, andiamo a destra. Inspiriamo tornando al centro, fuori l'aria, veniamo a sinistra. Inspiro, ed espiro, cerchiamo di buttare fuori tutta l'aria che abbiamo in corpo. Inspiro, ed espiro venendo a sinistra. Dentro l'aria, tornando al centro, e fuori andando a destra. Inspiro, ed espiro, veniamo a sinistra. Dentro l'aria, inspirando, ed espirando andiamo a destra. Dobbiamo sentire tensione sul fianco opposto alla direzione di inclinazione, quindi se veniamo a sinistra, andiamo ad allungare tutta la parte destra del corpo, viceversa se andiamo a destra, andiamo ad allungare bene tutta la parte a sinistra. Ancora qualche ripetizione, fuori l'aria, veniamo verso sinistra. Inspiro, tornando al centro, andiamo a destra. Torniamo al centro, inspirando, sinistra. facciamo ancora uno per lato. Inspiro, tornando al centro, fuori l'aria, andiamo a destra. Inspiro, fuori l'aria, veniamo a sinistra. Perfetto. Ora portiamo le braccia, leggermente abdotte, leggermente aperte, verso l'esterno. Palmo delle mani, in avanti. Inspirando, andremo a portare le braccia verso il dietro, chiudendo le scapole. pancia in dentro, petto in fuori, e il mento bene in gola. Teniamo la posizione qualche secondo, poi ispirando, ci rilassiamo completamente. Lo facciamo quindi tutti assieme. Braccia leggermente aperte, verso l'esterno. Il palmo delle mani, che guarda il vostro televisore. Inspirando, portiamo le braccia indietro, chiudiamo le scapole, pancia in dentro, petto in fuori, mento bene in gola. due o tre secondi, e poi buttando fuori l'aria, ci rilassiamo. E via, andiamo bene in tensione col corpo, molto importante il mento che va in gola, e fuori tutta l'aria. Mi raccomando, mento in gola non vuol dire che flettiamo la testa verso il basso, ma la testa è sempre dritta, e dobbiamo spingere bene indietro il mento. E fuori tutta l'aria. E di nuovo, inspiro, ed espirando mi rilasso completamente. E via, inspiro, e fuori l'aria. Inspiro, bene, chiudiamo le scapole, e buttiamo fuori tutta l'aria. Inspiriamo, ed espiriamo. inspiro, bene, e fuori tutta l'aria. Ancora due, inspiro, ed espiro, inspiro, ed espiro. Molto bene. Abbiamo concluso con questa lezione. La prossima, al prossimo, appuntamento avremo bisogno di due pesetti da un chilo, o è sufficiente avere anche due bottigliette da mezzo litro d'acqua. Andremo a fare degli esercizi per rinforzo degli arti superiori. Vi diamo quindi appuntamento al prossimo episodio, e vi ringraziamo per averci seguito. ma donna più appuntamento al prossimo episodio, e vi ringraziamo per averci seguito, per averci seguito.